Sono isolati da quasi una settimana con una situazione sanitaria che preoccupa. Nella RSA di Volturare Irpina il clima è molto teso, dopo i 70 positivi tra pazienti e infermieri. Poche ore fa il decesso di una 91enne ospitata a Villa Clementina e altri pazienti hanno tosse e febbre. Ieri, dopo qualche momento di tensione con medici e pazienti, un'infermiera si sarebbe chiusa in bagno per la paura. Sono intervenuti anche i carabinieri, spia di una situazione che rischia di degenerare. E dall'esterno i familiari dei degenti fanno pressione sull'ASL per avere notizie e invocano altro personale. La cosa principale per noi è la tutela dei nostri cari, una cosa primaria. Però noi quello che vogliamo fare è fare un appello alle autorità competenti che agiscono a più presto perché non si può continuare in una situazione del genere dove manca personale e dove c'è assenza di queste autorità competenti. Ma da Ariano, dove è stata inaugurata l'area Covid del Frangipane, la Morgante chiarisce stiamo attenzionando scrupolosamente tutte le residenze per anziani. Non c'è la responsabilità perché c'è mancato controllo. Noi di fatto comunque stiamo facendo tamponi nell'RSA, abbiamo programmato i tamponi settimanalmente come tra l'altro la circolare regionale ce lo richiede. Quindi le stiamo seguendo e cercare di farle lavorare quando è più possibile in sicurezza. Ad Avellino intanto il sindaco Festa insiste con lo screening di massa che partirà nelle prossime ore. Noi stiamo valutando con l'ordine dei medici i test rapidi sull'antigene, stiamo valutando anche quelli salivari. Stamattina abbiamo un'altra riunione con l'ordine dei medici e poi il comandante provvederà anche a effettuare l'ordine di acquisto dei test. E si allunga la conta delle vittime al Moscati. Stamattina è morto un 87enne di Avellino ricoverato in subintensiva da due giorni e affetto da patologie pregresse. Stemattina